C'è tutto a rotto? C'è tutto con la pietra? Ci sei? No, mi vado a mettere a posizionare là. No, no, no. Lascia, lascia E' più l'impressione che tutto il resto Fai la stessa traiettoria che ho fatto io Tanto c'hai i piedi lunghi per tenerla alla porta Un po' ripida è, comunque si fa Se diceva malvasi, mi mi, momo, mamà Non penso che voleva scendere più Vieni, vieni tranquillo, vieni Vieni un altro po', eh Curva tutto, eh, curva tutto Aspetta, aspetta un attimo Dai, che te la tiro giù io Come hai fatto tu, hai fatto benissimo Non è che, è proprio quello che va fatto Se fai così, se ne scende da sola Non ho fatto gris, però che, magari metti dopo un negativo, non lo so Comunque, mantieni in sicurezza Ascolta, mettiti comodo qua per poggiare i piedi Una volta che parti, falla scorrere Tanto non è, è un pezzettino, non fa niente No, 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 non le tracchiamo, se no sicuramente non le tracchiamo Di quanto pagano i piedi No, no, tu, tu, mi, cioè, tieniti Tieni come hai fatto tu, andrei proprio, il giusto Parti dìetro, decilo, molla, quando se'è pronto e va vai vai non frenare più vai 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 è più una questione psicologica che la difficoltà in sé per sé non si può salire perché non hai la velocità cioè se avessi fosse pulita la vegetazione tranquillamente la sali sta lampetta però devi prendere un po di velocità se ti fermi la non ci sali più e ora praticamente siamo a valle della suriglia frat oppure a mangiarà abbiamo già fatto per me possiamo andrò la suriglia un fiume dove andiamo verso che fa la telecamera riporta di plastica si sarà appoggiato pure qualcosa dici come la telecamera pulita non lo so non ne ho idea che da timba che cos'è poi risaliamo e che andiamo a vedere a fare la noi allora se dobbiamo andare qua scendiamo giù che facciamo o saliamo da suriglia possibilità ce l'usciamo da qui mamma ci a vedere che non lo so com'è e intanto a piavandi invece e poi qua c'è la suriglia o quella di prima o pur indianiamo un fiume andiamo a vedere comunque mentre siamo qua androno e vediamo tutto che è una faschetta cosa pur è una faschetta cosa pura Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vai a destra, che pulita! C'è qualcosa che non va al freno. Non è preso qualche pietra, no? Ma sei si frenata? No, no, va a vuoto alla pinza. Sono andato per frenare, prima è andato... Ma al disco non ho toccato niente. Proprio niente. Ma peggiora o peggiora? No, adesso è... Allora, ho pinzato lì e è andato a vuoto. Hai visto che ho fatto così? Non ha frenato, proprio mi sono schiacciato il dito. Ho pompato due o tre volte e ha ripreso. Ma sono arrivato qua, sono andato per frenare e è andato a vuoto di nuovo. Questa volta si infitta la porcheria e mi tirano le tasse di chiesa. Può darsi. C'è una visione a vedere. Può essere, dai. Può essere, dai. Può essere, dai.